Ragazzi mi vuole dire una cosa, però ascoltate, io devo capire una cosa, è importante questa cosa qua, io devo scampire, è vero, perché tutto quello che deve essere fatto non è stato fatto, non so scrivere se sto c***o, con il topo che dice una cosa non fanno male, cioè io non so scrivere, non so scassare, adesso posso la mia, però è saluta, ti ritiri, 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 ma veramente ti giuro, cioè tu stai cantando in un c***o, l'altro giorno devo capire in un c***o, adesso devo capire in un c***o, adesso devo capire in un c***o, La chitarra non funziona, quell'altro fa quello che vuole lui, cioè io sono postretto a finire qua con ce, e questa cosa qui non ho capito un motivo, però si stanno divertendo a aprire. È una cosa che non può andare dopo così, è strano questa cosa, io sono postretto a fermare San Luca, San Luca, San Luca, è la chitarra